Tre film importantissimi, la riconferma dell'ascesa della produzione, la Me Picture, ecco qualche informazione riguarda questa scelta, perché questi tre film, come è nata appunto la scelta di questi tre film, da portare proprio in questa kermessa così importante? E qui a Venezia appunto abbiamo presentato due giorni fa The Bleeder con Naomi Watts e Liev Schreiber e ieri in dubbio sbattere con James Franco, Nathan Wolf, Serena Gomez, Ed Harris eccetera eccetera e pensiamo che Venezia sia una vetrina importantissima e soprattutto per il cinema di qualità e crediamo che le scelte che il Festival di Venezia fa sono delle scelte ben selezionate perché hanno anche pochissimo spazio. Non è come Toronto che ha tantissimi, un altro festival importantissimo ma con tantissimo spazio, ci sono tantissimi film e qui ce ne sono pochi e quindi crediamo che sia un posto esclusivo da esserci e da portare ai nostri artisti e loro sono felici di essere qua. Una battuta velocissima perché sei il produttore italiano più giovane, questo ti inorgoglisce e come la vivi questa realtà perché sei il più giovane? Diciamo prima di tutto mi porto i miei anni male, ho 28 anni ma tutti me ne danno 40, 43, 38 e quindi alla fine mi sento poco giovane, dicono più giovane, mi piace leggerlo così, mi ricordo perché ogni volta che incontro qualcuno mi dice Andrea ti porti benissimo i tuoi anni ma si vede che c'è una quarantina. Dico ah grazie e quindi chi ancora non mi conosce quindi alla fine sono felice di essere un giovane vecchio e di avere la possibilità di lavorare tanto e mi piace il lavoro che faccio e lavoro praticamente non stop. E quindi è una grande emozione, è il sogno della mia vita, fare quello che faccio ogni giorno è un sogno, ogni giorno quindi sono felice di... La vostra sinergia funziona, è un progetto che comunque va avanti da quanto tempo? Adesso che siamo associati ufficialmente da tre anni, comunque ho già investito nei film di Andrea prima perché ci credo molto nel suo lavoro e noi abbiamo questa forza perché siamo in due perciò facciamo le decisioni veloci e abbiamo sempre la stessa opinione, perciò non c'è modo, andiamo veloci, siamo felici, con molta energia, con molta onestà e con molto lavoro. Perciò ci mettiamo un obiettivo e ci andiamo. Stile made in Italy però col pragmatismo americano, secondo me è una formula vincente. I prossimi progetti si può accennarci a qualcosa? Qualcosa che riguarda con l'Italia, che a parte aver girato diversi film in Italia già, abbiamo portato qui Sara Jessica Parker, Jonathan Ismaier, Antonio Banderas, Alec Baldwin e tanti altri autori. Quindi a parte cercare di portare i nostri film in Italia, quindi girare i nostri film in Italia, stiamo facendo tanti film legati all'Italia. Uno che possiamo anticipare è il film su Lamborghini, per esempio, il biopic su Ferruccio Lamborghini e mentre la Paramount sta facendo quello su Ferrari, noi facciamo quello su Lamborghini. Quindi cerchiamo direttamente dal punto di made in Italy. Abbiamo tanti altri film che purtroppo non possiamo annunciare adesso, che hanno, uno avrai la news, vedrai la news abbastanza breve, su un altro grande personaggio italiano della musica, sarà un film americano anche questo, dedicato a questo grande personaggio. E niente, quindi diciamo siamo in continuo sviluppo, in ricerca, abbiamo anche un altro appunto sulla moda.